presentiamo la collezione forma nella versione di colore pesca una collezione che si adatta in qualsiasi ambiente bagno perché ha delle forme pulite molto lineari e in più allo scarico internamente easy clean presentiamo anche la collezione charlotte dello studio di gio sia mobile che lavabbo sempre nella finitura pesca interessante è l'abbinamento che abbiamo fatto questa collezione di un colore inedito riguardo il piatto doccia anch'esso pesca in ceramica cotta ad alta temperatura tre brevetti internazionali lo spessore il taglio su misura e la piletta in pet può essere installato da incasso o fuori sul pavimento e la possibilità di taglio su misura al centimetro direttamente sul cantiere in questo spazio mi archiprodus anche se piccolo c'è la cura del dettaglio potete trovare tutta la collezione dai sanitari alla vabba lo specchio e al piatto doccia tutti abbinabili in più colori un connubio tra design contemporaneo e tradizione artigianale che resiste nel tempo